Facciamolo! Mi raggiungo. Mi raggiungo. Mi raggiungo. Mi raggiungo. Mi raggiungo. Mi raggiungo è un pezzo di merda in ogni caso e lui è intrappolato un chilometro sottoterra. Mi raggiungo è un pezzo di merda in ogni caso e lui è un pezzo di merda in ogni caso. Ehi, c'è un arco. Dove c'è il container? E sono tre. C'è un allarme. C'è un generatore. Spegniamo la luce. Ecco il bersaglio numero cinque. Roger, mi muovo. Roger, bersaglio è una traiettoria. Merda, mi serve una buona posizione. Pronto al fuoco. l'ho ucciso. Tutto ok, tutto ok. Non arriveranno altri rinforzi in volo. Abbiamo finito con gli allarmi. Il bene che ho fatto al paese è indiegabile. Ci sono nemici in zona. C'è un arco all'ingresso del campo. 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 di contabilità. Da quel che vedo usa un sistema a singolo ingresso basato solo su incassi e uscite. Con cifre così alte e questi volumi di prodotto dovrebbe almeno imparare a usare una contabilità per competenza. È una reginetta di bellezza che ha iniziato perché era figa. Ci sono dei buchi enormi nei suoi libri. Se volesse rubarti soldi potrebbe fare la cresta sui bonifici che arrivano dal Brasile e prendersi i contanti non appena vengono riciclati dalla banca. Non ho dubbi sulla lealtà di Nile. Marco un nemico. Un terzo. Esaminerai la sua operazione e le insegnerai a tenere meglio i conti. In tutta onesta A.F. dovremmo spostare tutto il riciclaggio in Uruguay e in digitale. Ma prenderò il primo aereo per la Bolivia domattina. Mi sposto in posizione. Ho il bersaglio. Cerco una buona traiettoria. Un attimo cerco una traiettoria. Hai due ordini in capo. Quello è fottuto. Cazzo hanno trovato un corpo. in capo. Cazzo non lo Михhiere, però. in capo. Cazzo non lo Assim. Cazzo non lo in capo. in capo. in capo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Piano, cammini. Brutta merda! Hai cinque secondi per parlare. Pass, 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 bis! Ok, ok! Ho sentito una cosa. Ho la posizione di un altro capo sicario per la lista dei bambini cattivi. Mettiamogli un po' di carbone nella calza. C'è un riconoscimento del cartello. C'è un riconoscimento del cartello. Ok. 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 Abbiamo i libri contabili di un cavo pieno di soldi del Santa Blanca a Barbecios. Dobbiamo soltanto rubarli e far ricadere la colpa sul caro vecchio pulpo. È un gioco da ragazzi, eh? Come sempre. Buck, Queen Nomad. Chiamiamo da Barbecios. Come va, Todo? Cosa possiamo fare per voi? Vogliamo derubare il cavo di Nidia. Preparate una squadra e aspettate la nostra chiamata. Ci servirà aiuto per spostare tutti i soldi. Va bene. Avviso i miei. Ci servirà aiuto per spostare tutti i soldi. Andate, ci vediamo dopo. Ok, è posto. Raduniamoci, gente. Percivuto, mi muovo. Flores nasconde milioni in denaro riciclato al banco de Barbecios. Derubiamo la banca e diamo il denaro a Qatari e ai suoi amici ribelli. Percivuto, mi muovo. Percivuto, mi muovo. Percivuto, mi muovo. Avvistato mitragliere pesante del cartello, dove c'è il jammer per peroni. Percivuto, mi muovo. Percivuto, mi muovo. Percivuto, mi muovo. Percivuto, mi muovo. Attivo il drone. Non vedo niente. Il drone subisce interferenze. Vedo due sicari. Ditemi dove guardare. Il quartier generale. Dentro. Con quello sono cinque. raggiungo la posizione. Raggiungo la posizione. Versaglio marcato. Attenzione, sicario armato Dimitra, vicino al quartier generale. Percivuto, mi muovo. Attenzione, sicario. Percivuto, mi muovo. Percivuto. Percivuto, mi muovo. Continui. Percivuto, mi muovo. Sì, è vero. Silenzio, marci. Nidia è una spina al fianco e una pistola alla tempia. Dacci i codici d'accesso al suo cavo e Pulpo la farà scomparire. Pulpo? Cingalo. Ok, va bene. I codici sono vostri. Qui i nomad. Abbiamo i codici di accesso. I ribelli sono pronti? Per tralevare centinaia di milioni di bolivianos? Ovvio. Aspettate il nostro segnale. Passo e chiudo. Aspettate il nostro canale. Aspettate il nostro canale. Ehi, soldato del cartello! Ditemi dove. Accanto alla torretta. Hanno degli allarmi attivati. Allarme disabilitato. Bersaglio numero tre. Oh, cassa d'armi qui. Ah, mi fa comodo. A posto, a posto. Occhi aperti. Narco armato di mitra. Vicino all'ingresso dell'edificio. Attenzione, una torretta. Sparo a questi bastardi. Portenele da lì. Ci siete? Fuoco. Ricciolo. Bene, nemico a terra. Giù a terra, elicottero. Elicottero, a terra. Giù a terra, elicottero. Elicottero, a terra. Granata, via. Che cazzo! Versaglio sul tetto. Versaglio sul tetto. Hanno degli allarmi attivati. Però l'ultimo allarme. Non arriveranno altri rinforzi in volo. Granata! Abita! Grazie! No! No! Allare! Lo dolibco! Prezzo. Che cazzo fai? Vai arrivare! Non vedo i bersagli. Ok, tutto fatto. Non vedo i bersagli. Ehi, ci sono dei nemici. Li abbiamo un po' scorsi. Continuate a sparare, uccidete quei sicari. Un attacco al nemico. Ho chiesto rinforzi ai ribelli. Ho ricevuto. Ci siamo quasi. Vengono da questa parte. Vengono da questa parte. Vengono da questa parte. Vengono da questa parte. Avete il fuoco. Ricevuto. Versaglio accanto all'edificio. Vengono. 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 Sì. La terra. Elicottero, a terra. Nessun nemico. Ho la moto. Ehi, ho trovato informazioni su un elicottero del Santa Blanca. Dobbiamo solo rubarlo e consegnarlo ai ribelli. Facile, no? No, no, no. A terra, elicottero. Si sono calmati. Penseranno che abbiamo levato le tende? Oh, io mi... Oh, io mi... Che tal? No, no. 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 Grazie.